ora ora 3 ecco il premio un mega pacchetto non manco il giocattuto premio 2000 e 700 ok adesso un mega pacchetto è qua perché ce l'ho dovuto da premio ma in ogni france cattoliziano perché l'ultima di minuto 12 o 13 c'era il tuo tipo di punto e armato l'ultima di minuto spagna portiere un piccama un piccama serie 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 ... ... e il rio il quattro so il rio il rio due a le negozioni e il rio il rio a e a il e come and 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 a a a a a a 800 anche se è buio di 800 anche se è buio di 9 25 Non mi fa solo dormire Noi ma che cazzo qua Mi fa escovo Mi dice che è Lukaku Buuuu... Lukaku Mi fa escovo Lukaku lukaku quando costa un mercenario 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 locale quando costa però di lukaku 84 il costo pure scampiabile è buono li posso ottenere pure soldi posso ottenere scampiabile pure bello non so quanto cassa vale lukaku 84 con la cavola vada come c'è questo con salinaggio inglese ho trovato lo cago quante cose a me l'allenatore Stati Uniti bianco e verde Chelsea tifo scambiabile, ho perso, pure poi si è scambiabile abbiamo le box guadagnate giusto per fare crediti vediamo, ho un fronte aperto, ho abbinato che fosse qualche credo non so per fare crediti giusto adesso meti l'asfero a me lì e sto facendo va quando c'è di velocità? eh però è buono minchia velocità per fare i crediti, per fare i soldi non è che mi interessa tanto